Regista, sceneggiatore e produttore new yorkese ha collezionato Oscar e premi di ogni genere. Ha lavorato con attori del calibro di Kevin Costner, Michael Douglas, Tom Cruise, Al Pacino, Eccolo, Oliver Stone. Euronews l'ha intervistato in occasione del Festival Lumiera a Lione dove ha ricevuto un premio alla carriera. Tutta la mia vita è intrecciata con i film e allo stesso tempo è inserita nella storia americana, perché ho fatto molti film sulla storia americana. Ed ero lì durante i momenti importanti, durante l'assassinio di Kennedy e la guerra del Vietnam, e l'ho visto come un testimone. E il testimone cambia col tempo, quindi sì, sono attaccato alla storia. E perché non usare la mia testimonianza, la mia capacità di guardare, di vedere, di mettere in discussione e anche di criticare? A settembre Oliver Stone ha pubblicato la sua autobiografia, Cercando la luce, in cui si racconta dalla gioventù difficile alla guerra del Vietnam, a cui ha preso parte come volontario, fino alla droga e alla sua liberazione. Nel libro non ci sono solo le mie idee attuali, perché il mio pensiero si è evoluto. Prima ero molto conservatore, anche durante la guerra del Vietnam lo ero, ma sono tornato scioccato. Quello che ho visto laggiù era terribile e mi ha fatto riconsiderare le cose. Quindi questo e molte altre piccole cose hanno contribuito a farmi scoprire meglio il mio paese. Quindi è una scoperta tardiva. ... ... Grazie per la visione!